20 e 0 1 siamo puntualissimi per riprendere insieme questa maratona televisiva dell'8 marzo dedicata alle donne e al lavoro. Due termini che si integrano perfettamente con una terza parola chiave di questo nostro slot ovvero demografia ne parleremo insieme al professore ordinario di demografia della Università Cattolica di Milano Alessandro Rosina che a questo proposito ha scritto anche un testo crisi demografica politiche per un paese che ha smesso di crescere un argomento centrale e di grandissima attualità questo perché lo sapete dagli ultimi dati istat soprattutto nell'annus orribilis della pandemia il 2020 ci sono stati appena 400 mila nuovi dati un record negativo storico per quanto riguarda il nostro paese anche se come si stiene il professore Rosina in realtà non ci sarebbe un calo nel desiderio di avere figli in Italia rispetto agli altri paesi europei eppure proprio al nostro paese appartiene questo record negativo cercheremo innanzitutto di capire il perché io do il benvenuto al professor Rosina e lo ringrazio naturalmente per essere il nostro ospite qui nella maratona dell'8 marzo grazie buonasera è un piacere ecco professore abbiamo detto che appunto in realtà i giovani le donne e gli uomini italiani avrebbero desiderio voglia di mettere al mondo dei figli però in Italia tutto questo non sembra possibile perché? diciamo che se ci confrontiamo con gli altri paesi europei quindi vicini al nostro quello che appunto non ci distingue è il numero desiderato di figli che è attorno a 2 non è altissimo però è vicino a quel numero che consentirebbe un rapporto equilibrato tra generazioni quindi in media due genitori sostituiti da due figli e questo consentirebbe anche alla popolazione di essere solida e di avere basi anche che consentano di non produrre squilibri quindi questo non ci distingue quello che ci distingue è questo divario tra il numero di figli desiderato e quello effettivamente realizzato e questo è dovuto a tre nodi soprattutto principali il primo è che noi mettiamo i giovani maggiormente in condizioni di difficoltà nel conquistare una propria autonomia della famiglia d'origine abbiamo politiche abitative più deboli rispetto a quelle degli altri paesi se non c'è un aiuto della famiglia difficilmente si riesce ad affrontare i costi dell'affitto e dell'acquisto di una casa soprattutto nelle grandi città ma non solo e poi ci sono le difficoltà in tutta la transizione scuola-lavoro cioè la possibilità di entrare in maniera solida nel mondo del lavoro ancora di più per le donne rispetto a quei tani maschi e di avere una continuità di reddito che poi consenta di formare una famiglia e realizzare anche il desiderio di avere figli tant'è che proprio per queste difficoltà siamo il paese con età media più tardiva di arrivo del primo figlio che è attorno per le donne italiane attorno ai 31 anni e mezzo se ci confrontiamo con la situazione ad esempio francese le donne italiane arrivano ad avere il primo figlio quando le donne francese stanno già progettando il secondo quindi è chiaro che poi questo ritardo ha delle conseguenze e qui c'è poi il secondo nodo non solo si arriva tardi a formare una famiglia e ad avere il primo figlio ma poi ci si scontra con maggiori difficoltà a conciliare lavoro e famiglia in Italia meno diffusi sono i servizi per l'infanzia in India adesso c'è il piano nazionale di ripresa e resilienza che mira a potenziare la copertura su tutto il territorio nazionale dei nidi perché ovviamente se non c'è un posto nel nido o hai i nonni vicini che ti danno una mano e ti consentono di prendersi cura e accudire il figlio piccolo altrimenti devi rinunciare al lavoro e questo soprattutto ricade poi sull'occupazione femminile che non a caso è tra le più basse in Europa quindi questa combinazione di bassa fecondità e bassa occupazione femminile ha alla base scarse e inefficienti politiche di conciliazione non ci sono solo i servizi per l'infanzia che mancano tra l'altro qui siamo molto indietro rispetto ai target europei tanto per avere un'idea l'obiettivo che poneva l'Europa era quello di arrivare nel 2010 a una copertura del 33% dei bambini tra i 0 e i 2 anni che frequentassero i nidi cioè che avessero possibilità di accedere al nido e l'Italia attualmente è al 25-26% siamo nel 2022 non abbiamo raggiunto il target europeo del 2010 siamo ancora lontani tra l'altro con molte differenze all'interno del territorio italiano e non a caso la fecondità è più bassa al sud e anche l'occupazione femminile è più bassa al sud dove appunto anche qui i servizi per l'infanzia sono meno diffusi ma ci sono paesi come la Svezia e la Francia non a caso i paesi con più alta fecondità in Europa tra l'altro anche con l'occupazione femminile più alta rispetto alla media europea che hanno una copertura superiore al 50% non c'è solo una questione poi di copertura c'è anche una questione di flessibilità di orario di costi delle rette di qualità dei servizi perché ovviamente il nido non può essere semplicemente un parcheggio deve essere il punto di partenza di un investimento educativo di qualità a partire dall'infanzia che poi prosegue per tutto il corso di vita e qui nelle carenze delle politiche di conciliazione ci sono poi anche le carenze del welfare aziendale ad esempio noi in Italia abbiamo una percentuale di part time che è simile alla media europea però in Italia i due terzi del part time sono imposti dalle aziende e solo un terzo è volontario mentre nel resto d'Europa è il contrario cioè due terzi è volontario e solo un terzo è in qualche modo imposto dall'azienda e quindi in qualche modo obbligato il part time deve essere una scelta un concorso di colpa possiamo dire in questo senso tra lo Stato che non mette a punto le misure sufficienti per favorire proprio la maternità e la conciliazione tra gli impegni familiari e quelli appunto lavorativi e poi le aziende che non supportano sufficientemente le lavoratrici C'è un terzo soggetto a cui imputare una parte della colpa che sono gli uomini, i padri che condividono molto meno in Italia l'attività di cura domestica rispetto ai coetanei degli altri paesi Certo, è una situazione insomma molto complessa in cui giocano un ruolo importante diversi fattori la situazione è già preoccupante nel presente anche perché abbiamo assistito insomma a questa decrescita demografica a partire dagli anni 80 inarrestabile fino al giorno d'oggi però lei sottolinea nel suo testo come la situazione sarà ancora più difficile da affrontare nel futuro intorno alla metà di questo secolo nel 2050 quando se non ci sarà un'inversione di tendenza avremo 5 milioni di over 65 in più naturalmente con tutto quello che ne consegue soprattutto l'aumento della spesa pensionistica andremo a perdere 8 milioni di persone in età lavorativa quindi quel gruppo di persone che garantisce ricchezza e che garantisce anche l'equilibrio del sistema di welfare io le chiedo innanzitutto è possibile invertire questo trend negativo per quanto riguarda appunto la crisi demografica e se non fosse così l'Italia rischia di diventare un paese di forti tensioni sociali? Sì, se non invertiamo la tendenza rischia di diventare un paese che non cresce più non solo dal punto di vista demografico ma anche economico che deve affrontare spese che diventano insostenibili perché ovviamente se aumentano molto di più di oggi la popolazione anziana aumenta perché comunque fidiamo più a lungo e questo è un aspetto positivo ma la spesa sanitaria oltre che quella previdenziale è sostenibile se c'è una presenza solida all'interno del mondo del lavoro nelle fasce centrali lavorative perché altrimenti non solo il paese non cresce ma non è sostenibile dal punto di vista della spesa sociale non è sostenibile perché appunto chi finanzia la spesa sociale è chi lavora e rischiamo appunto che la denatalità vada a erodere sempre di più anche le fasce centrali lavorative e poi il sistema di welfare è fatto funzionare dalle persone al centro della vita attiva e quindi mancherebbe sia chi fa funzionare il sistema sociale oltre a chi produce ricchezza e chi poi paga le tasse per poter appunto finanziare anche i servizi che servono a una popolazione anziana che cresce ma a una popolazione più generale e quindi rischiamo appunto che si creino tensioni sociali aumentino le disuguaglianze e i giovani decidono sempre di più di andarsene all'estero perché ovviamente già siamo un paese con alto debito pubblico se non cresciamo nei prossimi anni e decenni e se aumentano anche gli squilibri demografici e i costi corrispondenti diventerà una scelta sempre più comune per i giovani andare in paesi dove appunto questi squilibri e questo carico di debito pubblico non c'è per invertire la tendenza bisogna tornare a investire sulle nuove generazioni cioè ridare solidità alle nuove generazioni altrimenti appunto non avremo quelle forze quella vitalità quell'energia quelle intelligenze che possono alimentare i grandi cambiamenti che sono in corso noi dobbiamo cogliere ad esempio la sfida della transizione verde della transizione digitale ma possiamo farlo se mettiamo i giovani nelle condizioni di essere ben formati ben inseriti nel mondo del lavoro e poi essere una risorsa attiva pienamente in grado sia di realizzare i propri progetti di vita quindi di formare una famiglia ad avere figli e questo fa aumentare ovviamente la natalità e aiuta a invertire la tendenza ma dall'altro aumenta anche l'occupazione dei giovani e se cresce anche l'occupazione delle giovani quindi anche femminili noi riusciamo appunto a compensare in buona parte questi squilibri e poi soprattutto se diventiamo anche un paese che anziché perdere giovani riesce ad essere attrattivo nei confronti dei giovani e questo quindi anche imparare a gestire meglio il fenomeno dell'immigrazione e far diventare l'immigrazione da qualcosa che abbiamo gestito in maniera emergenziale finora in qualcosa in un processo pienamente inserito all'interno del nostro modello sociale di sviluppo anche questo diventa una leva importante su cui potremmo contare realizzando le politiche che servono Ecco lei giustamente ha parlato di giovani ha parlato di futuro e ricordiamo tra l'altro anche che i fondi europei non si chiamano per niente next generation insomma vedremo come se verranno sfruttati a dovere per quanto riguarda la percezione del futuro beh questo è fondamentale nella volontà poi di mettere al mondo dei figli lo abbiamo detto ci troviamo in un momento storico molto complicato tra crisi pandemica crisi economica una guerra insomma che è scoppiata laddove non nessuno se lo aspettava quindi un quadro particolarmente complesso e in questo quadro ci siamo domandati ma i giovani italiani nel nostro paese effettivamente vogliono fare famiglia sentono ancora questo desiderio e se si in questo quadro complesso che cosa temono di più siamo andate per le vie del centro storico di Milano a fare questo sondaggio abbiamo intervistato ragazzi e ragazze in giovane età vediamo le loro risposte innanzitutto e poi le commentiamo insieme nel 2022 al giorno d'oggi diventare mamma è ancora un obiettivo un sogno? si per molte donne si certo per quanto mi riguarda si sicuramente non è più un obiettivo perché la prospettiva della donna nel mondo è cambiata molto beh personalmente parlando è un mio sogno quindi per me si 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 anche io no decisamente no si in futuro spero di avere la possibilità di averne quanti voglio certo che è un obiettivo non è affatto un ostacolo io nonostante la situazione attuale ne vorrei altri di figli assolutamente sì sì io da grande vorrei proprio una grande famiglia assolutamente no secondo me sì è un obiettivo avere figli personalmente per quello che riguarda nome me no secondo me è importante avere dei figli non lo so sì lei rimetterebbe al mondo un figlio adesso? non lo so col mondo che c'è se lo dovessi fare adesso in questo momento storico così difficile la tua paura più grande quale sarebbe? è un problema economico che non viva la vita al 100% questo momento è di formazione il costo della vita di mantenere un figlio è salito alle stelle con la cosa del clima e adesso le pandemie che non rende la vita molto facile nemmeno molto non te la puoi più godere più come prima è di non riuscire a conciliare la parte lavorativa e la carriera con il figlio il mondo esterno non so alcune problematiche possono preoccupare per le limitazioni che ci sono adesso avrei paura appunto che non riesca a vivere al meglio la vita bullismo vittimismo guerre che stanno il panico quindi io sconsiglio perché un periodo no forse nel 2040 ci potrà essere i figli secondo me vanno fatti con amore ecco purtroppo nel cioè diciamo nell'ultima generazione viene un po' messo in dubbio questo aspetto posso citare una frase di Troisi è stato il suo compleanno Troisi diceva che i figli erano la soluzione ai problemi quando la coppia era in crisi diceva questo allora professor Rosina abbiamo voluto chiudere questo box popoli con una battuta insomma divertente di Troisi però insomma quali sono poi i dati che riusciamo a devincere da queste interviste che abbiamo fatto che effettivamente sì ci sono tante paure legate a tanti fattori diversi ma come diceva lei nel suo libro c'è anche ancora il desiderio comunque di diventare genitori e di formare una famiglia non solo da parte delle ragazze ma anche dei giovani ragazzi questo un po' mi ha sorpreso ma quello che le voglio chiedere secondo lei quindi la crisi demografica oltre naturalmente al fattore economico è legato in qualche modo anche alla crisi di percezione del futuro è una crisi di valori anche? assolutamente sì perché quello che fa la differenza è come noi vediamo la nostra presenza all'interno della società ci sentiamo parte di una comunità e di una comunità che guarda positivamente nei confronti del futuro se funziona questo sentirci uniti se funziona questa coesione sociale e se funziona questa idea di poter migliorare assieme allora c'è qualcosa che va oltre il noi stessi e quella cosa che va oltre noi stessi è chi arriva dopo e quindi questa apertura generativa sul dopo che è appunto la possibilità di andare oltre noi stessi attraverso la scelta di avere figli e le opportunità da dare appunto a chi verrà dopo e teniamo presente che non ci sono solo le paure il mondo migliora perché di fronte alle grandi sfide c'è chi arriva con idee nuove con una visione nuova con una voglia nuova di dimostrare quanto vale e questo è quello che noi dobbiamo consegnare alle nuove generazioni non semplicemente i timori le paure del presente non solo l'incertezza nei confronti del futuro ma il fatto che guardando con occhi nuovi la realtà si possono trovare nuove soluzioni e quindi questo considerare le nuove generazioni come nuovo di valore che arriva a portare nuovo valore diventa la sfida per trasformare il cambiamento in miglioramento cercando di dare il meglio di noi stessi attraverso chi verrà dopo questa è la sfida che ha sempre consentito poi al mondo nonostante le difficoltà di migliorarsi abbiamo passato come umanità momenti molto molto più difficili rispetto a quelli attuali è vero che l'incertezza è grande è vero che viviamo in un mondo che cambia molto più rapidamente è vero che la scelta di avere figli è sempre meno scontata però proprio per questo dovremmo avere ancora più consapevolezza e ancora più valore e quindi mettere nelle condizioni i giovani di poterla progettare questa scelta e realizzare positivamente e produrre valore attraverso questa scelta penso che sia la cosa principale che una comunità dovrebbe fare cioè mettere i giovani nelle condizioni di realizzarsi dal punto di vista professionale delle proprie scelte di vita ecco un paese che non mette i giovani nelle condizioni di farlo al meglio non scommette sul proprio futuro e l'Italia finora non ha scommesso pienamente sul proprio futuro ecco per concludere questa chiacchierata professora Rosina io volevo proporle una suggestione con un legame tra il suo testo appunto che parla di crisi demografica e un saggio del 1918 una data insomma simbolica a proposito di guerre di Oswald Spengler filosofo tedesco forse non dirà tantissimo il nome del filosofo ma dice di più il nome del testo ovvero il tramonto dell'Occidente la faccio breve insomma in questo testo Spengler paragona la società a un organismo vivente che attraversa tutte le fasi la giovinezza l'età matura e poi appunto la vecchiaia la decadenza e dice che l'Occidente già nel 1918 sta attraversando e attraverserà ben presto l'ultima fase quella della decadenza del tramonto ma secondo lei la crisi demografica sarà il fattore scatenante del tramonto dell'Occidente ovviamente con poi l'emersione di altre culture magari guardiamo alla Cina sì se non è gestita nel modo adeguato la crisi demografica può contribuire in maniera rilevante al tramonto dell'Occidente perché l'Occidente non cresce più dal punto di vista demografico non ha più la capacità endogena di produrre crescita ma soprattutto sta producendo molti squilibri al proprio interno rispetto appunto all'indebolimento del ruolo delle nuove generazioni e che quindi fanno fatica a trovare spazi opportunità all'interno di un mondo che invecchia ma soprattutto che rischia di mettere i giovani ai margini se la sfida del ventunesimo secolo è quella di passare dalla quantità cioè dalla crescita della quantità che è stata sia dal punto di vista che ha creato il modello vincente tra l'altro dell'Occidente attraverso il prodotto interno lordo attraverso la popolazione dell'Occidente che è cresciuta soprattutto nel secolo scorso ma deve passare dalla crescita della quantità alla qualità della crescita perché la qualità della crescita è quello che farà la differenza nei modelli vincenti di sviluppo di sviluppo sostenibile e inclusivo di questo secolo questa però è un'opportunità dell'Occidente perché appunto l'Occidente non può più avere la quantità che aveva nel secolo precedente ma si investe sulla qualità la qualità degli anni in più di vita e non solo quantità di anni in più di vita la qualità del rapporto con l'ambiente la qualità della formazione delle nuove generazioni la qualità della vita e dei servizi in generale anche perché quello che conterà sempre di più per produrre benessere ricchezza la qualità delle relazioni è soprattutto non tanto la quantità di persone nell'età attiva ma la qualità del valore che sono in grado di produrre ecco se l'Occidente investe in questa direzione aiuta tutto il mondo a spostarsi dalla quantità alla qualità perché questo è il modello di crescita di sviluppo inclusivo sostenibile che diventerà vincente nei prossimi anni e decenni molto interessante con quest'ultima analisi abbiamo capito insomma come l'aspetto demografico in realtà sia un campo di battaglia in cui ci si gioca moltissimo anche nel confronto appunto con gli altri paesi del mondo io la ringrazio tantissimo professore Rosina per essere stato qui con noi ospite alla maratona dell'8 marzo l'aspetto nuovamente sulle fonti tv grazie per il suo tempo e per la sua analisi grazie grazie a voi è stato un piacere bene ringraziamo allora il professore Alessandro Rosina ordinario di demografia dell'Università Cattolica di Milano ora piccolo break pubblicitario poi restate sempre con noi in diretta perché la maratona continua